Leggete con me Atti 12 dal verso primo. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle, davanti alla porta, custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo, alzati, presto. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse, vestiti e mettiti i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse ancora, mettiti il mantello e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva, infatti, di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse, ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. La parola di Dio ci dà degli insegnamenti che devono, per mezzo della fede e della fede applicata nella pratica, nella nostra vita, trasformarsi in realtà. Ricordate, l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi, dice, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ora, considerate questo. Questo verso ci parla di due cose. La liberazione del potere delle tenebre, quindi ci mostra una condizione in cui noi eravamo schiavi e incapaci di liberarci dalle tenebre che erano dentro di noi e intorno a noi. D'altro canto ci parla anche di un cambiamento di questa condizione. Liberati dalle tenebre, ma non lasciati nelle tenebre, ma trasportati. E trasportati nel regno del suo amato figlio. Vedete, noi oggi, se siamo nati di nuovo e se lo Spirito ci ha rigenerato, noi abbiamo subito una trasformazione totale, una rigenerazione, una nuova creazione ha avuto luogo in noi e questa nuova creazione è una realtà che vive dentro di noi. Ma questo ci apre le porte a delle considerazioni importanti, poi ci rivolgeremo al brano che abbiamo letto. In altre parole, dentro di noi questa nuova creazione che Dio ha posto in noi non appartiene a questo mondo. Voi ricorderete la preghiera sacerdotale, bellissima, no? Loro sono nel mondo, ma non sono del mondo. Ora, se non siamo del mondo, di che cosa siamo? Siamo parte del regno di Dio. Infatti, come Gesù stesso insegnò, il regno di Dio è in mezzo a noi, ma noi siamo il regno di Dio. Ora, chiaro è che non tutto ciò che noi siamo al momento è il regno di Dio. Perché? Perché carne e sangue non erediteranno il regno di Dio. C'è un guscio che proprio il regno di Dio non lo vedrà, cioè non ci entrerà in questo senso, intendo. Ma noi siamo stati rigenerati nello spirito e siamo parte di quel regno. E siamo in attesa della redenzione del corpo perché ciò che è terreno sarà rivestito da ciò che è celeste e allora entreremo completamente nel regno di Dio per gustarlo totalmente. Per il momento siamo parte del regno di Dio, ma viviamo in un mondo immerso nelle tenebre e viviamo in un guscio. Condividiamo un corpo che purtroppo è ancora parte e soggetto al peccato. Ma c'è qualcosa di importante. Lo spirito di Dio dimora in noi. Siete d'accordo su questo? E se lo spirito di Dio dimora in noi vuol dire che colui che è Dio benedetto in eterno, che è la massima espressione del regno di Dio, è in noi. Quindi il regno di Dio è in noi ed è in noi perché noi siamo parte di quel regno e siamo stati rigenerati dallo spirito, siamo opera dello spirito di Dio, rigenerati in Cristo Gesù. E allora è bene che noi teniamo a mente questo, perché io lo so che voi lo sapete che non vi sto dicendo niente di nuovo. Ma quello che io voglio portare alla vostra mente e alla mia mentre io predico è questo. Quanto nel nostro giorno tipo noi siamo consapevoli di questa verità. purtroppo ci dibattiamo in un mondo che è fatto di materia e di tenebre purtroppo. E molte volte dibattendoci nelle mille faccende di ogni giorno noi ci dimentichiamo proprio che Dio dimora in noi, che noi siamo parte di quel regno glorioso e che quel regno di Dio è in noi e noi siamo parte di quel regno. Perché vi dico questo? Perché gli atti degli apostoli ci presentano una realtà in cui il regno di Dio, sebbene di guai ne avessero più di te e di me, si manifestava, 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 cioè si rendeva evidente ai sensi. Manifestarsi vuol dire questo. Si manifestava in modo glorioso e potente al punto che quando sfogliamo il benedetto libro degli atti degli apostoli noi vediamo la vita di tutti i giorni intrisa, attraversata dal regno di Dio che si intrometteva nella vita dei discepoli e continuamente i discepoli erano, almeno dico continuamente nel senso della, di ciò che ci viene riportato da Luca negli atti degli apostoli, è un continuo manifestarsi del regno di Dio, no? E questi uomini nel vivere le faccende di ogni giorno, le preoccupazioni di ogni giorno e anche la stanchezza, la fame, i bisogni naturali che il loro corpo aveva, continuamente si ritrovano a vedere manifesto in loro e intorno a loro e attraverso di loro il regno di cui sono entrati a far parte. Ora, qual è la normalità? Questa? Degli atti degli apostoli? O la nostra? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Se poi la vostra normalità è quella che gli atti degli apostoli stanno vivendo, invitatemi più spesso a casa vostra perché sono un po' invidioso. Ma noi qui vediamo un episodio, l'episodio della scarcerazione, ad opera di un angelo, di Pietro. Tra le tante cose belle che questo brano presenta, scopriamo una cosa, che Pietro stava nei guai. E in quel momento Pietro viveva una realtà assai difficile, la viveva con profonda fede, altrimenti non si sarebbe addormentato così profondamente, ma viveva una realtà difficile. C'erano delle guardie che senz'altro si rivolgevano a lui con sgarbo che, consapevoli che se fosse fuggito loro sarebbero stati uccisi, lo custodivano molto, molto, molto attentamente. Non solo, erano a suo fianco, uno da un lato, uno dall'altro nella cella, e più c'erano le guardie fuori. E ormai il re Erode aveva decretato la sua morte, del resto Giacomo, suo compagno di tante manifestazioni del regno di Dio, mentre Gesù era sulla terra, era stato ucciso molto probabilmente, mancavano poche ore all'esecuzione, sarebbe accaduto lo stesso anche a lui. Quindi la realtà con il quale lui si confronta è una realtà dura. Voglio dire, era più dura di quella che Davide vive al lavoro ogni giorno, o di quella che il nostro fratello Pietro può vivere ogni giorno al lavoro, o quella che tu vivi in famiglia perché hai un grosso problema. Era più dura anche magari della malattia che tu ti porti addosso e che è comunque un grande dolore, una grande problematica. Beh, ma io preferisco i miei guai a questo guaio. Voi che dite? Barattereste la vostra vita per questa situazione con Pietro? Intendo dire era cruda, era cruenta la situazione, era densa di ansia, di preoccupazione, di dolore. Stava giocando ormai gli ultimi, si stava giocando gli ultimi attimi della sua vita, era arrivato agli sgoccioli, ormai la sua mente era proiettata all'eternità, era nell'impossibilità di uscire, ci aveva anche perso la speranza. Non è lì, non ci viene descritto come agitato in una preghiera frenetica, nel tentativo di strappare al cielo l'ultima possibilità di liberazione. Lui se ne sta tranquillo, ormai ha rimesso la sua vita nelle mani di Dio, ma è una brutta situazione. Brutta, brutta. Immaginatelo prima di addormentarsi, mentre queste guardie gli stanno al fianco, le catene, le sbarre. La fine, quell'ambiente brutto, quale può essere una prigione. Intendo dire perché vi descrivo questo? Perché in quella circostanza, quella naturale, non c'era niente di bello, di consolante. come molti dei giorni in cui vivi tu, in cui vedi solo la crudezza di una realtà priva di bellezza. Ma, c'è un ma, ma in quella cella c'era il regno di Dio. Perché dico che c'era il regno di Dio? Ma perché c'era Pietro? La presenza dello Spirito di Dio era in lui. E lui stesso era parte di quel regno. Ebbè, quindi, agli occhi di Dio, dentro quella cella, c'è un tesoro inestimabile. C'è qualcosa di di grande valore. Qualcosa che Dio aveva acquistato nel suo regno, dalle tenebre, l'aveva acquistato per il suo regno, a costo della vita di suo figlio. E questo rendeva Pietro importante. E che, come se non bastasse questo, e già questo è più che sufficiente, c'era un grande, un grande raduno del regno di Dio, in una casa lì vicino, che ricordava al Signore, era dinanzi al trono di Dio, intendo la chiesa in preghiera, che ricordava continuamente a Dio la sorte di Pietro e invocava la grazia per vederlo liberato. E allora accade che un'altra volta, come capiterà tantissime volte negli Atti degli Apostoli, un'altra volta il regno di Dio si manifesta. Io userei il termine intromettersi, ma non è corretto. Quindi si manifesta in questa situazione, entrando nella cruda realtà di questo giorno. Non c'era niente di buono, ve lo ricordate? Non è che c'era un'atmosfera celestiale, una vibrante sensazione di santità. No, no, c'erano le guardie maleducate che trattavano male Pietro, c'erano le catene strette ai polsi, un luogo buio e umido, l'angoscia in attesa della morte. Ma lì entra il regno di Dio, ed entra ed è glorioso. Voi lo riconoscete il regno di Dio? Perché nel regno di Dio c'è calma. Se avessi dovuto liberarlo io, con un'azione tipo Mission Impossible, immagino la fretta, l'attenzione, fai attenzione, pesto, sbrigati, lascia perdere il mantello, lascia perdere le scarpe, corri, via, via! Niente di tutto questo. Nel regno di Dio è tutto sotto controllo. L'angelo arriva, lo sveglia, e gli dice Pietro, mettiti il mantello. E adesso i calzari, con calma, non c'è fretta, non è che qualcuno può impedirci di portare a termine quello che succede. E io lo capisco a Pietro, a parte che è stato svegliato nel cuore della notte, forse aveva il sonno profondo, ma quando tu vedi un angelo che ti dice mettiti il mantello, mettiti le scarpe, è chiaro che la prima cosa che pensi è sto sognando, è chiaro. Dice, ma siccome è un bel sogno, io continuo a viverlo. E così si alza in piedi. Poi quando le porte si aprono dinanzi a sé da sole, allora Pietro, vabbè, dice sì, sì, questo è un sogno, poi mi sveglio purtroppo, però... E invece quando poi esce fuori all'aperto, c'è l'impatto con l'aria aperta, e l'angelo sparisce e non c'è più l'elemento celestiale e si ritrova di nuovo immerso nella realtà della vita terrena, capisce che non è un sogno, ma che il regno di Dio, che è dentro di lui e al quale lui appartiene, si è manifestato. E lì, lì, voi lo sapete meglio di me, tutto è possibile, non c'è niente che non è possibile. E lì, il regno di Dio entra e trasforma. Vedete, voi lo sapete, ormai mi conoscete da tanto tempo, gli atti degli apostoli sono la mia passione. Perché? Ma perché anch'io ho vissuto nella mia vita la manifestazione del regno di Dio. Prima di tutte, nel modo più glorioso, più intenso, indimenticabile, quando il Signore mi ha salvato. Lì lo Spirito di Dio è sceso su di me, mi ha rivelato, prima in sogno e poi nella realtà, cose gloriose. Mi ha fatto capire qual era la mia condizione di peccatore, la mia condizione di uomo destinato alla perdizione. Mi ha poi fatto conoscere il suo perdono senza parole, poi mi ha parlato nella sua parola attraverso la parola di Dio. Mi ha cambiato la mente, il cuore, mi ha reso un'altra persona. E in quel momento, quello che io vi sto descrivendo adesso della mia personale esperienza, io ho cercato il regno di Dio e il regno di Dio è entrato nella mia vita. E a quel punto, da quel momento in poi, io non sono più stato lo stesso. Perché? Perché Dio mi ha liberato dal potere delle tenebre e mi ha trasportato nel suo regno. Ma non solo mi ha trasportato nel suo regno, ma mi ha reso parte del suo regno. e ha messo la sua presenza dentro di me. Quindi, la realtà, da quel momento in poi, è stata completamente diversa. Sì, io abitavo sempre nello stessa casa, avevo le mie stesse sembianze, anche se il mio volto era raggiante, non come prima. Vivevo con mia madre, come prima, all'epoca. ma la mia vita era completamente diversa. E infatti, la gente non mi riconosceva più per quello che ero. Interiormente. Nel corso degli anni, dopo quella esperienza, tante altre volte il regno di Dio si è manifestato. Non in modo così intenso, anche se altre volte ho vissuto esperienze gloriose. Ma quello che è il cruccio della mia vita, è che troppe volte il diavolo riesce a mettere una cappa tenebrosa intorno alla nostra esistenza. Voi sapete, da che il Signore ci trasporta nel suo regno, incomincia una battaglia. Perché le tenebre amano ciò che è loro, ma ciò che non appartiene a loro, soprattutto se è luce, eh no. Lì comincia il combattimento. E da quel momento infatti io ho cominciato a combattere una battaglia che prima non avevo mai combattuto. Non che non fossi stato male, anzi, prima ero soggetto molto spesso a pianto, a tristezza, a disorientamento. Poi il Signore mi ha illuminato, ma sono cominciati i combattimenti spirituali. Però quello che voglio dirvi, anche questo era un combattimento spirituale. Però in questo combattimento contro Erode che è l'emblema del regno delle tenebre, il regno di Dio si è manifestato e ha trionfato. Quello che voglio dirvi è che noi non dobbiamo permettere all'avversario di metterci sotto una cappa buia dove il regno di Dio cessa di manifestarsi. E questa è la ribellione. A volte noi diciamo no vabbè è il giorno che corre, è la frenesia della vita moderna, non ci riesce più a trovare spazio. Ma il problema è nella tua vita frenetica, nella tua vita fatta di anche aridità, intendo materialmente parlando, perché le cose con le quali noi abbiamo a che fare, non è che ci arricchiscono spiritualmente. Non lo so, c'è chi lavora davanti a un computer, c'è chi lavora in un'officina, c'è chi lavora in cantiere, ma non è che siamo edificati dallo schermo, dal grasso dei motori o dai mattoni che mettiamo su. Ma non è questo il punto. Neanche Pietro viveva una situazione edificante. però lui era esposto al regno di Dio e il regno di Dio si è manifestato in lui. E la Chiesa degli Atti prima di questo evento e dopo di questo evento e non solo la Chiesa degli Atti degli Apostoli strettamente legata a quello che Luca racconta, ma anche le Epistole parlano della stessa realtà della manifestazione del regno di Dio anche se prendete la Chiesa più problematica che noi identifichiamo con la Chiesa di Corinto voi vedrete lì manifestazioni del regno di Dio gloriosi addirittura Paolo dirà io non sono venuto a voi con l'eccellenza della sapienza umana ma con la manifestazione di spirito e potenza ricordate e in mezzo a loro non c'era mancanza di doni ricevevano lo spirito santo manifestavano i carismi c'è una realtà che noi non possiamo accettare cioè quella di vivere senza la manifestazione del regno di Dio Gesù promise che a tutti coloro che credono in Lui Lui si sarebbe manifestato ora se io servissi un Dio avaro direi sono contento il Signore mi ha salvato però non posso pretendere altro ma la realtà è che Dio ci spinge con la Sua parola perché noi ricerchiamo il regno di Dio e possiamo essere il mezzo attraverso cui questo regno si manifesta anche a questo mondo ci invita ad essere ripieni dello spirito a compiere le opere dello spirito a ricercare i doni dello spirito affinché il regno di Dio possa manifestarsi la chiesa degli atti nel capitolo 4 chiede esplicitamente franchezza e quindi necessariamente pienezza dello spirito santo perché laddove c'è lo spirito lì c'è libertà e coraggio ma chiede anche segni prodigi e miracoli ve lo ricordate? ora i segni prodigi e miracoli perché li chiede? perché sono l'espressione della manifestazione del regno di Dio e questo mondo e non solo questo mondo anch'io abbiamo bisogno della manifestazione del regno di Dio voglio farvi un esempio parlavamo con qualche sorella proprio prima del culto della stanchezza con il quale viviamo a volte le nostre giornate e grazie a Dio che il Signore ci dà la fedeltà di essere sempre presenti ai culti anche se stanchi e siamo stanchi raccogliamo le energie abbiamo i pensieri che a fatica riescono a concentrarsi ma se con tutta questa stanchezza Dio si fosse manifestato a te quest'oggi in maniera gloriosa e potente tu pensi che e mi riferisco alla sorella con la quale parlavamo avremmo parlato di stanchezza alla fine di questo giorno no no ve li ricordate i discepoli sulla via di Emmaus come erano affranti come erano abbattuti non avevano più forza né energia e se ne andavano tristi verso Emmaus rassegnati io li vedo col capochino ormai che c'è da fare ormai noi speravamo ma ormai non speriamo più non c'è più luce non c'è più poi Gesù si manifesta loro ve lo ricordate cosa succede a questi due ve lo ricordate non importa se fosse buio notte se erano stanchi se si era fatto più tardi di quanto non lo fosse già prima ma pieni di zelo e entusiasmo via ripercorrono i chilometri a piedi che li separano da Gerusalemme e vanno perché devono parlare quello di cui io e te abbiamo bisogno è cercare la manifestazione del regno di Dio ma quello che voglio chiedervi è questo voi lo amate il regno di Dio e non lo chiedo solo a voi lo chiedo anche a me e in che modo manifestiamo questo umore in che modo quanto lo cerchiamo quanto lo bramiamo quanto è presente nelle nostre preghiere quanto ci rende inquieti il fatto che da troppo tempo non abbiamo una manifestazione gloriosa del regno di Dio quanto tempo è che tu non vieni scioccata da un'esperienza gloriosa ma non quelle che costruiamo noi per dire a noi stessi no sono ancora nel regno di Dio no no ma quelle che ti investono come un camion in corsa che ti svegliano appunto come i discepoli sulla via del Maus come si svegliò poi l'apostolo Pietro che suscitano quello zelo quella gloria che quando incontri qualcuno ti dicono ma che ti è successo che mi è successo la gloria del regno di Dio ecco noi abbiamo bisogno di questo perché se c'è la manifestazione del regno di Dio il tuo lavoro ti stancherà di meno i tuoi problemi graveranno di meno le tue ansie scompariranno e il tuo zelo crescerà e l'oggetto delle tue preghiere non sarà più oh signore i miei tanti problemi ma sarà signore ai problemi pensaci tu ma tu manifesta nella mia vita ancora la tua presenza ancora la tua gloria io non avrei mai voluto trovarmi nei panni di Pietro finché se ne stava in carcere con le catene ai polsi e le guardie a fianco e davanti la porta però quando l'angelo lo ha svegliato allora sì che avrei voluto essere nei suoi panni vero o no ma vedete io e te non è che dobbiamo riguardare a queste cose come eh irraggiungibili eh questo è oh questo è l'apostolo Pietro mica questa è una colonna dell'Evangelo l'apostolo l'apostolo Pietro ha vissuto questa esperienza non perché fosse una colonna dell'Evangelo ma perché era parte del regno di Dio ora la domanda è tu e Dio siamo parte di questo regno abbiamo lo stesso padre lo stesso spirito dimora in noi la stessa fedeltà ci lega a Dio intendo la fedeltà di Dio beh allora allora io e te dovremmo disporre il nostro cuore a cercare questo perché è di questo che io e te abbiamo bisogno ed è questo che Dio vuole io mi manifesterò a tutti coloro che credono in me chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto fratelli ma non lo desideriamo noi e perché allora non lo cerchiamo noi siamo parte di quel regno quel regno dimora in noi quel regno vuole manifestarsi in noi e attraverso di noi io fui in mezzo a voi con manifestazione di spirito e di potenza perché perché il regno di Dio era dentro di Lui quello stesso regno è dentro di noi fratelli cerchiamone la manifestazione di Dio di Dio di Dio Grazie per la visione!